L'innovazione non è mai Non è mai mancata ma anche prima delle tecnologie, ogni singola cosa nasce e cambia e innova. In questo momento anche qui con o senza tecnologie abbiamo bisogno comunque di ripartire, ripartire cambiando modello, cambiando modello di business, cambiando modello di rapporto tra politica e cittadini, cambiando modello di partecipazione da parte dei cittadini verso la cosa pubblica. Abbiamo bisogno di fare squadra, siamo ognuno con il proprio cappello, con le proprie competenze tecnologiche o meno, politiche o meno, ma siamo in un ecosistema in cui dobbiamo assolutamente collaborare. Io credo che il 2.0, il bottom up, come vogliamo chiamarlo, sia il futuro e quelli che non lo sono dovranno estinguersi prima o poi, anche nel vecchio modo di fare attività. Sì, fare impresa non era così difficile. Io credo che l'unica cosa che ci possa garantire qualcosa è la creatività e il garantire che il mondo vada avanti per merito e per capacità di spingere i giovani a essere più operativi. E forse quelli che sono meno giovani come me dovrebbero fare un passo indietro e aprire nuovi spazi, perché gli spazi ci sono. Quindi questo potrebbe essere un modo... non dico che non serviamo più, perché come in una famiglia serve il nonno, perché il nonno è la storia, è la cultura, è la tradizione, l'affettività. Serviamo anche noi, ma l'operatività ce l'hanno i genitori, i giovani. Cambiare modello, cambiare modello è la mia parola chiave per cambiare il futuro, per cambiare il paese, ma non solo, perché ormai siamo in un'era globale. Cambiare modello.